Questa corte di giustizia dà lettura della sentenza emessa nei confronti del signor Morisu Trio Valadon, di professione pittore, che in stato di ebrezza si è più volte reso colpevole di danneggiamenti a cose pubbliche e private. Questa corte condanna l'imputato, riconoscendolo non nella pienezza delle sue facoltà mentali, ad un periodo di internamento in manicomio, fino a guarigione completa. Il processo è finito. No, lasciatemi, io non sono pezzo, lasciatemi, sono ubriaco, non ho confesso, ma non sono pezzo, Lasciatemi, lasciatemi, lasciatemi. Il mio figlio è un artista. Non mi impazzo. Domandate l'autera, parlatene con Renoir. Domandate l'autera, parlatene con Renoir. Domandate l'autera, parlatene con Renoir. Grazie a tutti. Grazie a tutti.